Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove The North Face Vective Explorys 2 Mid Future Light. Un nome lunghissimo per una nuova scarpa da trekking di casa The North Face, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della decisione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di queste Explorys 2 Mid. Per quanto riguarda la suola, troviamo una suola Cypher's Control di casa The North Face, con un tassello da 4 mm. Nell'intersuola troviamo la tecnologia Vective 2.0, e per quanto riguarda l'atomaia troviamo la fodera in Future Light per renderla impermeabile. Il tutto per soli 419 grammi nella taglia 42. Adesso che non abbiamo visto le caratteristiche, iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste The North Face Explorer 2 Mid. Come al solito troviamo la suola Surface Control di casa The North Face, una suola che mi ha convinto sì e no. Diciamo che finché andiamo su terreno abbastanza semplice, può andare ancora bene. Il grosso ma di questa suola è sicuramente il mescola, che ci fa scivolare su roccia bagnata, e anche la tassellatura, che comunque essendo così grosso come tassello e poco distanziato, tanto su foglie quanto su fango si tende a scivolare parecchio. Diciamo che se dovete fare delle escursioni a media quota su dei sentieri abbastanza tranquilli, possono ancora andare bene, ma poi vediamo dove è meglio utilizzare queste Explosive 2 Mid. Continuiamo, passiamo a parlare dell'intersuola. Qui troviamo un'intersuola che è stato alzato da casa The North Face con la tecnologia Vective 2.0. Questa tecnologia consiste in una piastra messa nell'intersuola, che tende a darci tanta stabilità quanto trazione. Quindi diciamo che, soprattutto per la stabilità, questa scarpa è molto migliorata. Ma poi ne parliamo anche quando vediamo il tallone. Per quanto riguarda l'amortizzazione, mi ha convinto sì e no. Diciamo che se fate delle escursioni in giornata, stando fuori un 6-7 ore, ci possono stare. Se iniziate a sforare e andare magari attorno alla decina di ore, allora lì non è forse la scarpa adatta. Io ci ho fatto una decina di ore in un'escursione e quando ho finito la mia gita avevo i piedi particolarmente stanchi e affaticati. Quindi diciamo che si potrebbe vedere meglio questa parte qua dell'amortizzazione. Arriviamo a parlare della parte superiore della Tomaya iniziando dal puntale. Qui troviamo un puntale abbastanza strutturato. Roba che se ci prendete dentro delle rocce o delle radici, almeno che non ci tirate un calcio veramente forte, potete andare avanti poi a camminare senza dolori. Mi piace poi che sia stata messa una parte plastica a protezione del puntale che corre praticamente quasi fino al tallone, che fa sì che la Tomaya resti protetta e non si strappi durante l'utilizzo. Quindi brava The North Face da questo punto di vista. Per quanto riguarda la Tomaya, troviamo una Tomaya abbastanza fitta che complice anche la membrana in Future Light e l'ho trovata poco traspirante. L'ho utilizzata in delle giornate che non faceva neanche tanto caldo, eravamo su 25-26 gradi e ho finito che avevo il piede veramente molto molto sudato. Quindi forse la versione non Future Light, che ha una Tomaya un pochino più larga, potrebbe essere più traspirante. Ma queste, diciamo che per l'estate calda calda calda, forse non sono l'ideale. Arriviamo dunque a parlare del tallone. Nel tallone l'inserto rosso in basso è la tecnologia Vectip 2.0, che va a uscire sul tallone per garantirci stabilità. E tra questa tecnologia e comunque un tallone rigido nella parte inferiore e che pian piano tende a destrutturarsi e ad essere morbido nella parte superiore, vi assicuro che questo scarponcino è molto stabile. Se soffrite distorti con questo scarponcino andrete via probabilmente senza prenderne neanche una. Quindi sicuramente la stabilità è decisamente migliorata da versione precedente. Infine per quanto riguarda il tallone, nella parte superiore troviamo una bella imbottitura, cosa che fa sì che noi riusciamo a tenere il piede ben all'interno per tante ore senza avere punti di pressione. Quindi da questo punto di vista la parte superiore è sicuramente fatta bene. A livello di linguetta e lacci, questi sono veramente molto classici. Linguetta imbottita che svolge molto bene il suo lavoro, non si sente la persona dei lacci. Lacci anche loro che vanno bene. Diciamo che da questo punto di vista The North Face è andata su un classico e lavorano bene. Soletta, all'interno troviamo una soletta di casa The North Face. Io mi ci sono trovato bene, è estraibile se volete cambiarla, però io personalmente la utilizzerai senza tanti problemi. A livello di materiali, come sapete io ho sempre criticato molto i materiali di The North Face perché ho sempre trovato degli scarpuncini che andavano a rompersi molto molto facilmente. Secondo me The North Face ha intrapreso la strada giusta nel senso che questa l'ho trovata molto più duratura. Ci sono ancora dei punti in cui si sta iniziando a staccare, a rompere un po' la scarpa, ma a confronto ai modelli precedenti c'è davvero, questo ha fatto un balzo in avanti davvero notevole. C'è ancora un bel po' di strada da fare, però The North Face è sulla strada giusta. Dove utilizzerei queste Explorers 2 Mid? Allora diciamo che io starei su dei sentieri di media montagna, principalmente. Nulla di troppo roccioso, fangoso, è diciamo una classica passeggiata estiva, quando però non fa neanche troppo caldo. Come dicevo, secondo me, quando arriviamo a 28-29 gradi è veramente l'extremist di queste scarpe. Dopodiché il vostro piede all'interno suderà dentro davvero molto, quindi media montagna nelle giornate primaverili o comunque estive abbastanza fresche. Detto ciò, vi consiglio l'acquisto di queste The North Face Explorers 2 Mid. Allora, vengono vendute a un prezzo online sui 130-140 euro. Diciamo che se le comprate, vi ci trovate anche abbastanza bene utilizzando l'ener range che vi ho appena citato. Se uscite da quel range, presentano davvero tanti, tanti limiti. A mio parere, forse per 130-140 euro si può trovare in giro uno scarponcino che, almeno a livello di durabilità dei materiali, può garantire più durabilità nel tempo. Quindi, io fossi in voi per questa cifra magari investirei su qualcos'altro. Anche sempre di casa The North Face, magari. Detto ciò, ragazzi, è una speranza sia stato esaurente e sostivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!